Se qualcuno è contrario a questa unione, parli ora o taccia per sempre! No! Non sposare lui! Sposa me! Ma perché insisti? Lo sai, ci vogliono tanti soldi! No! Ci pensa Mobilia Megastore! Scappiamo! Con Mobilia Megastore ti sposi subito e meglio! Avrai a disposizione un wedding planner per aiutarti a organizzare l'evento, l'abito da sposa, il servizio fotografico, le partecipazioni, l'auto nuziale, il ricevimento, il viaggio di nozze e un arredamento completo con camera da letto, cucina, parete attrezzata e coppia di divani a partire da 17.900 euro! E si paga tutto a rate in 48 mesi e interessi zero! Ma allora è fatta! Ma certo! Forse è finita la benzina! E perché quella dovevi metterla tu? Sei il solito! Addio! Con l'operazione Wedding by Mobilia a dire di sì è più facile! E tutto quello che occorre per sposarti lo paghi comodamente a rate! Prossimi sposi! Mobilia Megastore vi aspetta tutti i giorni a Caserta Sud e Salerno Est!